io la ringrazio del cuore l'aveva fatto un grande favore un privilegio io ho fatto solo quello che sentivo nel mio cuore volevo venire ad abbracciarti e non ho aspettato domani ma pensiamo oggi oggi quello che possiamo farlo mi fa una fotografia una bella fotografia che me la faccio per quadro fanno le valigie il leone anzi 12 luglio 2019 a santo con immensa stima e rispetto al paracadutista reddice e all'uomo che è un esempio per tutti noi si può andare avanti nonostante tutto se ci credi veramente e soprattutto se non ti arrendi mai arrendersi grazie grazie santo per quello che hai fatto quello che sei e che rappresenti per tutti noi non solo della folgore ma per tutti perché abbiamo bisogno di riferimenti abbiamo bisogno di esempi abbiamo bisogno di uomini che mettono la propria vita a disposizione degli altri e che rendono sicuramente tutta la comunità e il mondo migliori mi piace la scritta folgore folgore sempre nel cuore come anche in una parte del film quando parlo delle mie capacità che alcuni credono straordinarie ma per me sono normali perché dico io sono un uomo della folgore non dimenticate che sono un paracadutista e questo spesso fa la differenza importante oggi e oggi oggi sono qui viviamolo oggi viviamo il presente viviamolo intensamente viviamolo sempre a tutta grazie colonnello grazie grazie a te grazie io cercherò di mantenermi all'altezza tu sei all'altezza siamo noi che dobbiamo adesso essere all'altezza di renderti onore e di portarti sempre con noi nel nostro cuore perché tu sei un riferimento tu ci puoi dare oltre all'esempio che hai già dato ci dai veramente quelle motivazioni che ci possono fare la differenza siamo grandi che siamo grandi lui che deve dare l'esempio ai ragazzi di oggi è il colonnello che è il colonnello che è un grande e deve seguire tanti ragazzi che sono sbandati ma io per quello vado nelle scuole hanno bisogno i nostri giovani di riferimenti come noi vediamo in lui un riferimento un esempio anche i nostri giovani hanno bisogno di esempi positivi hanno bisogno di qualcuno che li possa prendere realmente per mano e far capire che i valori importanti esistono e non sono quelli che passano attraverso la tv attraverso i mezzi di informazione che vogliono tutt'altro e quindi noi abbiamo il dovere di renderci utili in questa che è anche una missione perché se noi avremo dei giovani migliori tutti avremo un mondo migliore siamo grandi siamo grandi la forgo non muore mai mai ma come dici io anche quando noi non ci saremo più la forgo muore non muore non muore mai il foglio non muore mai ma cosa il foglio non muore mai ma cosa A volte basta poco, vedi? La propria senza, mi ronifica. Grazie. Grazie. Nessuno resta indietro, ha sempre al fianco. Nessuno deve stare davanti e nessuno deve stare indietro. Santo, saggio e vero.